Per anni ci hanno detto che noi eravamo soltanto quelli della rottamazione, di un ricambio anagrafico, generazionale, anche un po' brutale, senza alcuna profondità culturale. Ci hanno accusato di essere quelli che erano bravi a chiedere il ricambio ma non avevano una visione, un'idea strategica del Paese. Dopo un anno e mezzo di lavoro credo che sia chiaro che c'è un disegno organico di riforme, non sono un elenco di cose, c'è un disegno sull'Italia, può piacere o meno.